Il pallavolo è del ultimo colpo della Liugio Normeccanica che di fatto completa l'organico della Serie 1 affidata a Marco Gaspari inserendo nel roster anche la giovane schiacciatrice Aurora Pistolesi che arriva dalla scuola di pallavolo Anderlini Toscana classe 1999 arriverà dunque a completare un reparto di cui fanno parte atlete del calibro di Baron Montagno Caterina Bosetti, Partenio e Tomic. A proposito di Caterina Bosetti la schiacciatrice azzurra è in partenza nella giornata di domani con la nazionale italiana di Davide Mazzanti per la prima pool del World Grand Prix 2017 che si disputerà a Kunsan in Cina e in cui l'Italia affronterà le padrone di casa, gli Stati Uniti e la Russia. Intanto l'Azimut Modena Volley ha ufficializzato un altro membro dello staff tecnico che lavorerà al fianco di Rado Stoicev si tratta del preparatore atletico Ezio Bramard che lavorerà con i muscoli e la condizione dei giocatori giallo-blu per le prossime due stagioni.